buchi neri l'universo è pieno di buchi neri solo che non si vedono perché sono neri ma non si vedono oppure non li vogliono vedere col fatto che sono neri razzismo astrofisico sono uguali ai buchi bianchi sono uguali ai buchi bianchi non bisogna discriminarli troppo giusto rimandi pure a pianta al cotone nello spazio il cotone gladiatori nel colosseo la sorte del gladiatore battuto veniva sempre decisa dall'imperatore il quale più delle volte metteva il pollice verso il basso non tanto per crudeltà quanto per evitare che si fermassero le macchine autostoppi imperiali su riducation channel